Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, rallentamenti in direzione sud per veicoli in avaria tra Baldarno e Arezzo, in direzione Bologna, rallentamenti per traffico tra Calenzana e Viviogno Variante. Ci spostiamo sulla Firenze Mare dove restano code a tratti per traffico, in direzione mare tra Chiesina Olsanese e Capannori. In Fipili per lavori di miglioramento della sicurezza troviamo code per due chilometri verso Firenze, tra Empoli Est e Ginestra, in carreggiata opposta per un chilometro tra Ginestra e Montelupo. Arriviamo sul raccordo autostradale Siena-Firenze per un veicolo in fiamme. Il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Firenze al chilometro 49 in corrispondenza di San Casciano-Valdipesa. Ulteriori dettagli nelle prossime edizioni. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!